Non è possibile che adesso dobbiamo stare a scrivere pure i verbali in inglese, ma collega, per caso tu mastichi un po' d'inglese? Oh, che rispondo? Zon. Zon. Sapresti dirmi come si scrive dormire in mutande? In inglese in mutande diventerà to sleep. E' mutand? Sleep. Oh. Eh, sleep, sleep. Ecco detto, to sleep.